Mi hanno detto di mettere le mani così sul tavolo e hanno preso uno spillo, hanno preso uno spillo e ce lo hanno conficcato, più volte, lei è malato, mi hanno detto quei maledetti in giacca e cravatta, e mi hanno trascinato giù, giù, sempre più giù, lungo le scale di quel palazzo, e mano a mano che scendevamo si faceva più antico, come se appartenesse ad un'altra epoca, e mi hanno torturato, Dio se mi hanno torturato, per anni, notte e giorni, non c'è stata tregua, mi hanno tagliato, mi hanno tenuto legato tanto stretto che non potevo muovermi per mesi interi, sono stato lì dentro per dieci anni o cento, e quando sono uscito non riuscivo più a camminare, mi hanno bruciato e quanto ho gridato, e ogni volta mi ripetevano, lei è malato.